ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video che non serve a niente non serve a nulla sto video non racconto nulla se non la ripresa a guidare con qualche cosa e ho scelto dirt rally 2 gli anticipo che aveva aggiornato gli ultimi driver del podium ma quello che è più importante da tenere a mente è venerdì l'inizio del campionato aston challenge con le bellissime aston martin gt e organizzato dai ragazzi di sim drivers io ci ho messo veramente pochissimo di mio quindi diamo il giusto merito a questi ragazzi venerdì e io riprendo con una specie di sfogo al volante quindi se siete qui vuol dire che mi volete concedere tre minuti del vostro tempo veramente perché non avete nient'altro da fare allora io provo a fare il fabrice bloc dalla situazione fabrice can bloc partiti non guardate i disastri che andrò a fare vai proviamo subito a passare qua dentro mamma mia ragazzi mamma mia ragazzando mamma mia bello sto piccolo 360 non so se posso passare di qua, mamma mia ma quanto è cattiva sta macchina ragazzi, mamma mia mamma mia ce l'ho fatta incredibile oh mamma vabbè una botta ci stava yuhuuu saltone ho visto una cosa interessante anche lì, guardate splash vabbè ragazzi mi pare che tre minuti sono passati grazie per avermi guardato, seguito come al solito se questo video inutile vi è piaciuto lasciate un like, un commento, fatemi un video risposta con il video più scatenato e pazzo possibile se volete, lasciate un commento iscrivetevi, noi ci vediamo venerdì perché perché no magari anche prima come al solito grazie a tutti ci vediamo presto da Fabrice è tutto ciao a base di botta ragazzi, guarda qua haha ciao ciao